Forza Italia affila le armi in vista delle prossime amministrative a Gela. La città del Golfo, roccaforta dalla sinistra, ha bisogno di un accambiamento radicale sotto tutti gli aspetti e gli azzurri di Silvio Berlusconi sono pronti a scendere in campo, ma prima ci vuole un'organizzazione interna al partito, così come chiesto da chi ieri è intervenuto alla riunione che si è svolta all'hotel Assileno. Il coordinatore regionale Vincenzo Cibino ha le idee chiare. Abbiamo deciso come organizzare il nostro movimento che quindi vedrà fondere la volontà di chi vuole un movimento organizzato, quindi il partito come lo era Forza Italia e questa esperienza dei club. Di qui a un mese si chiuderà il tesseramento, poi la celebrazione dei congressi e quindi l'elezione del coordinatore. Le mosse che faremo ovviamente in maniera veloce e immediata su Gela dove si vota le amministrative che sono quelle della creazione di un comitato elettorale che vedrà sicuramente saggezza e freschezza dei giovani coinvolte e poi successivamente il congresso intorno al mese di dicembre. Sì, ma al momento attuale la referente a Gela di Forza Italia chi è? Ce l'avrete tra una settimana. Forza Italia apre alle alleanze. Cerchiamo alleanze con tutte le forze di centrodestra ma non ci fermiamo solo lì e questo riguarderà il progetto che abbiamo di elezioni anticipate in Sicilia che vede attualmente il governatore Crocetta condurre stancamente questa regione. Quindi ci apriamo anche alla società civile, alle liste civiche. Vogliamo prima pensare e immaginare un progetto per la città, poi vedere chi lo firma insieme a noi, fare un grande referendum in città della Gela che vogliamo e poi interpretarla al meglio con tutti quelli che si vorranno candidare e rappresentarla in Consiglio Comunale, negli assessorati e la figura di sindaco che sceglieremo alla fine. L'amministrazione Fasculo è stato rimarcato di risera e giunta al Capolinia. Vedo un territorio di Gela un po' abbandonato. Vedo persone che hanno a cuore la Sicilia, il suo destino, forse anche quello della mia famiglia e dei propri figli vedono grandi possibilità in questo territorio straordinario. Vedo una città abbandonata, senza speranza, senza passione, senza volontà, senza la possibilità di guardare al futuro. Vedo invece qui, almeno in questa sala, una grande volontà di riscatto e di fare tornare Gela protagonista con una possibilità per i giovani per trovare lavoro. I lavori di ieri sono stati aperti da Massimiliano Falvo che nel suo intervento ha chiesto ai presenti di essere tutti uniti e di lavorare con umiltà per offrire a Gela la migliore alternativa alla sinistra.